Capi d'abbigliamento e prodotti alimentari, calzature, curiosità, è stata molto varia l'offerta proposta domenica in Viale Adua dove si è rinnovata per tutto il giorno una fiera promossa dai sindacati degli ambulanti di Confcommercio e Confesercenti, Fiva e Damba in collaborazione con il locale Centro Commerciale Naturale. Un'occasione per vivere in modo diverso l'importante arteria stradale di Pistoia che chiusa tra via San Biagio in Casca e via Nuova è stata popolata da tantissime persone. Tanti banchi, 80 operatori provenienti da tutta la regione, siamo molto soddisfatti perché ormai si ribadisce la sinergia fra commercio sulla Repubblica e commercio in sede fissa per questo vogliamo ringraziare anche il Centro Commerciale Naturale di Viale Adua che ha collaborato attivamente in organizzazione dell'iniziativa. Siamo contenti, è stata una manifestazione come un po' tutte impegnative da organizzare per tutte le misure nuove di sicurezza per quanto riguarda il commercio sulla Repubblica però gli operatori hanno risposto bene, l'utenza mi sembra contenta e è già presente fin dalle prime ore quindi siamo veramente contenti di questa iniziativa. e questa è la prima delle quattro iniziative in programma per l'anno 2019 sul territorio comunale ricordiamo che a breve sarà organizzato anche l'evento a Sant'Agostino per poi avere la primavera e la fiera d'autunno allo stadio quindi un bel programma che abbiamo messo in piedi per sviluppare il commercio sulla Repubblica ma anche la sinergia con gli operatori del commercio in sede fissa sul territorio cittadino.